Ben trovati, un aggiornamento con la tendenza media e lunga scadenza, uno sguardo a metà mese, metà dicembre, quando dovrebbe esserci una fase un po' più tranquilla sull'Europa occidentale e parte dell'Italia. Si allontanerà una perturbazione a carattere freddo verso est, verso i Balcani e la Grecia, graduale miglioramento quindi sulle nostre regioni e appunto un periodo un pochettino più stabile grazie a un rinforzo all'alta pressione dall'oceano verso la Spagna, il Portogallo e la Francia che dovrebbe per qualche giorno bloccare le perturbazioni nordatlantiche dirette verso l'Italia. Quindi insomma anche al centro nord dobbiamo vivere una fase un po' più tranquilla. Dettagli maggiori li trovate però scaricando l'app di Trebi Meteo.